I dati delle centraline ARPAC relative ai vari territori parlano chiaro. Gli sforamenti ci sono e da rigor di logica sono frutto certamente di un'incontrollata gestione del traffico locale, ma allo stesso modo del tempo. Le poche piogge e quindi l'assenza complessiva di vento hanno fatto sì che le centraline ARPAC presenti a Cava dei Tireni, così come l'Oceano Inferiore ed il capoluogo di Salerno, hanno evidenziato degli sforamenti di PM10 che devono far riflettere. In Valle Metelliana sono quattro gli sforamenti di PM10 su un massimo di 35 annui registrati al 4 febbraio. Non è un numero che devi impressionare, ma su cui certamente c'è da riflettere. La registrazione è infatti fornita dall'unica centralina presente a Cava dei Tireni e che è installata nei pressi dello stadio Simonetta Lamberti. Con presunzione si potrebbe immaginare la stessa centralina in funzione, però nei pressi della stazione ferroviaria, altro crocevia della mobilità, anche extra cittadina, percorsa 24 ore su 24 da mezzi che si spostano da e verso Salerno. Con tutta probabilità avremo dati ben più sconfortanti. La situazione poi si complica se invece ci spostiamo sull'agro. La centralina ARPAC di Noceano Inferiore ha già all'attivo otto sforamenti, il doppio di quelli di Cava dei Tireni ed uno in più rispetto a quelli del capoluogo Salerno. Al 4 febbraio la centralina di Via Vernieri, nei pressi del presidio ospedaliero Ruggi d'Aragona, mostra un incremento di 7 superamenti dal limite di PM10 da inizio 2016, un segnale di allarme che starebbe portando il sindaco Vincenzo Napoli ad una forte regolamentazione del traffico del comune capoluogo. Volendo poi evidenziare i dati dell'anno 2015, è Noceano Inferiore con i suoi 64 sforamenti che dovrà in qualche maniera risolvere il problema e magari il nuovo assessore all'ambiente saprà come agire. Cava dei Tireni si fa rispettare ma non preoccupa così tanto con 26 sforamenti di PM10 nell'arco del 2015. Salerno invece si è fermata a 39. Buone notizie però, tornando ai nostri giorni, arrivano dal meteo. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni che potrebbero spazzare via gran parte dello smog determinando un rientro nella norma.